... Pronto? Sono Samantha, mi riconosci? Mi auguro di farcela in questo sforzo, mi auguro di farcela. Parliamoci chiaro. Che cosa ti ha detto? Metafore. Metafore? E chi non dice mai di parlare così difficile? E che metafora ti ha fatto? Dobbiamo far quadrare il cerchio. Ma ti sei visto così come ti vedo io? Basterebbe sviolarti con un'unghia per farti cadere. Ti sbagli? Lui è una persona seria. Quando si tratta di andare a letto non c'è differenza fra un poeta, un prete o addirittura un comunista. Non andrei oltre e non farei grandi programmi. Stiamo con i piedi per terra, cominciamo a lavorare con l'aiuto di tutti. Vedremo dove arriveremo. Senza consipanti.